Freitag Nacht amici buongiorno abbiamo anche l'edizione olimpionica della sera che vi parlerà vi farò vedere alcune immagini dell'estratto della cerimonia di apertura solenne a Parigi vi abbiamo già parlato in tutti gli appuntamenti mattina e sera delle olimpiadi vi auguro buon weekend l'ultimo weekend di luglio perché luglio come antimesi ha avuto i marroni ed estivi e dopo di noi andranno in onda due canzoni selezionate dal nostro dj bello bello vitaletti mi raccomando selezionate al mare ombrellone crema solare che questo sole è ammalato il mare è ammalato siamo tutti messi da ridere oggi il 26 7 data iniziale celebrativa delle olimpiadi e quindi ascoltiamo della musica riecheggiante grandi imprese in queste olimpiadi parleremo dell'italia ma non solo di curiosità di spot che ci piacciono e anche di quelli che non cagliamo mai ma li guarderemo perché durante l'unipide si guarda anche uno che caga nel water per vincere loro non è vero allora prego vitretti andare a prendere i vinili dischi cd in questo venerdì sera di fray tag nacht vi lascio in buone mani vi lascio alla grande musica di radio russi domani non ci sarà karaoke ma ci sarà concerto live vari momenti live da assaporare insieme a voi mi raccomando nei ritorni dal mare andate piano perché c'è tanto traffico c'è tanto stress e bisogno di ferie vi auguro quindi buon sabato e buona domenica questa luce verde al neano fa male agli occhi tipo a vestita di nero come non fotti ascoltami almeno e dammi un'altra chance tipo a vestita di nero dove mi porti dove mi porti ma se al mio funerale voglio vedervi ballare voglio sentirvi cantare tutte quante le canzoni d'amore voglio vedervi impazzire voglio vedervi sognare voglio vedervi brillare ancora ancora di un mondo migliore senza di malo senza di malo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti